Da lunedì potremo tornare a messa. Ricordiamoci di arrivare in anticipo rispetto all'orario della celebrazione, di mantenere il distanziamento tra le persone, di entrare in chiesa con la mascherina. Troveremo dei volontari o i collaboratori del parroco che ci guideranno in entrata e in uscita, mantenendo la distanza di almeno un metro e mezzo da chi ci precede. Rimaniamo a casa se abbiamo una temperatura corporea pari o superiore a 37,5, in caso di sintomi influenzali, o se abbiamo avuto contatti nei giorni precedenti con persone positive alla Covid-19. Cittadini responsabili per tornare a celebrare messa. Insicurezza.